Io innanzitutto ringrazio la BOOM, la nostra nuova biblioteca e insomma le persone come Marco Segabinazzi, Sonia Steni, Leonora Pellizzaro che hanno accolto questo momento, questo momento di dialogo e di confronto sui temi dell'architettura, dell'ingegneria, della forma e della struttura e diciamo in uno spazio che speriamo sarà utilizzato anche nei prossimi mesi per iniziative analoghe. Vorremmo fare davvero di questo luogo un piccolo centro culturale che ruota intorno al nostro dipartimento e ai nostri corsi di studio. Sono poi particolarmente interessati ai temi di cui oggi parleremo. Ringrazio tutti tutti i presenti, a cominciare dall'ingegnere Emiliano Leoni che sarà il coordinatore, terrà insieme, insomma terrà i fili di questa chiacchierata intorno a questa pubblicazione, pubblicazione curata da Valentina Ecker, Daniele Cappelletti di Alessandro Busana, che poi ci racconteranno nello specifico da dove nasce questa iniziativa, diciamo le conferenze, gli incontri alla base del libro e poi la pubblicazione. Poi c'è l'architetto Campolongo e l'architetto Carlana che hanno partecipato sia ai dialoghi, agli incontri e poi alla redazione di alcuni testi. Penso di aver detto tutto, lascio la parola a, non so se vogliono dire qualcosa prima a Valentina Daniele o direttamente a Emiliano. Grazie, grazie a tutti e grazie dell'invito, è bello essere in questo spazio della BUM, è uno spazio che io ho fatto mesiano, sono ingegnere, ho studiato qua, noi avevamo una biblioteca che la prima era in cima dove ci sono le cupole, per chi poi ha studiato qua. Adesso avere un bellissimo spazio che può godere del paesaggio della città di Trento e soprattutto che ci permette di poter fare proprio queste conferenze e di studiare i temi che ci sono cari, devo dire che ringrazio proprio anche dell'invito. A me piace molto il lavoro che è stato fatto e tutto il lavoro prodromico per questo libro, perché anch'io nella mia formazione, io ho una formazione ingegneristica, insomma l'ingegneria a prima maniera, dove non avevamo ancora qua quell'opportunità di ingegneria e di architettura che riesce poi a fondere questi bellissimi mondi, però per passione io sempre sono stato molto appassionato all'architettura, perciò mi ero creato proprio sempre queste connessioni, però farlo da ingegnere ti permette di capire poi certe forme, certe dinamiche che altrimenti potrebbero essere complesse. Perciò il rapporto tra forma e struttura è un rapporto sicuramente che affascina la nostra professione, che soprattutto stimola il nostro modo di fare, il nostro modo di ricercare come fare il nostro lavoro e questo ci aiuta anche poi a mettere a fuoco degli atteggiamenti che devono sicuramente essere sensibili, sensibili a tante dinamiche, a tante sollecitazioni che noi possiamo avere, rispettare i luoghi, luoghi dove dobbiamo poi approcciare i progetti e poi atteggiamenti sicuramente di equilibrio perché chi poi deve gestire sempre questo rapporto tra la forma e la struttura evidentemente dobbiamo sempre cercare di mediare tutta una serie di posizioni e arrivare a dei dialoghi efficaci con i nostri interlocutori dopo arrivare anche ad avere degli elementi che devono essere molto chiari, dunque la sensibilità, l'equilibrio e la chiarezza, come tra l'altro Giulia Boller, che anche lei è coautrice di una parte di questo volume, chiarisce benissimo quanto parla degli atteggiamenti soprattutto dell'ingegneria e dell'architettura svizzera. Dico, questo libro non poteva che essere presentato in questa facoltà, perché qua, soprattutto nel dipartimento di che ingegneria e dell'architettura, ecco che i binomi, questo binomio è proprio la base, penso, di tutto, di tutta l'attività e di ricerca, l'attività educativa. Evidentemente questo libro mette a fuoco quello che è il valore del pensiero del poter pensare le forme, le strutture dell'architettura, però come lo dice anche il sottotitolo, che il sottotitolo è la struttura delle forme prodotte dall'uomo, è chiaro che anche il tema della prassi diventa importante, diventa importante la prassi sia di chi studia le forme migliori per riuscire a raggiungere quell'equilibrio specifico, sia per chi dopo deve metterle in atto, deve riuscire a costruirle come chi ha costruito questi muri, questi edifici. E allora lì voglio citare proprio questo piccolo tratto di Tuglia Iori, dove dice per tutto il secolo breve il cantiere edile è lo snodo principale per il passaggio della mano d'opera dall'agricoltura all'industria, così il cantiere autostradale che costruisse ponti giganteschi invece che di attrezzature è pieno di uomini, è un cantiere che gira intorno all'operaio, all'umanesimo filosofico si affianca un umanesimo delle pratiche. dunque dove anche nel tempo, nelle grandi trasformazioni, questo tema della pratica, questo tema del rispetto dell'uomo anche che poi dell'artigiano, di colui quale fa, perché anche noi abbiamo bisogno poi effettivamente di tutte queste competenze, credo che sia veramente fondamentale e verrà fuori dal dibattito, penso che anche andremo a fare. La prima persona a cui vorrei porgermi è Valentina Ecker. Valentina, io vorrei capire un po' come è nato questo lavoro, questo grande lavoro, questo ciclo che si è tenuto nel 2019, quali erano, quali sono state le forze che ti hanno animato per farlo, cosa ricercavi e soprattutto dopo mi piacerebbe capire nell'interazione con i vari relatori e con il Campo Marzio, con cui avete poi anche poi col comitato, con la commissione cultura, che tipo di dialogo hai avuto e come vicendevolmente vi siete cresciuti, perché credo che il tuo lavoro sia stato un lavoro da costruire, di creare dei ponti, dei legami e quando si lavora per costruire ponti e legami evidentemente si lavora anche per effettivamente e c'è sempre uno scambio vicendevole di esperienze e di visioni che dopo sempre trasformano le persone. Grazie. Tanto grazie. Ma va benissimo, sì, sì, sì. Allora, le domande sono tante. Come è nata l'idea del libro? In realtà prima vorrei spendere due parole sulla commissione cultura dell'ordine degli ingegneri di Trento. La commissione cultura era una realtà totalmente nuova per Trento, è nata con questa consigliatura e avevamo l'esigente, la sentivamo proprio impellente, di creare uno spazio dove poter ritornare a coltivare le proprie passioni. Quindi ognuno si poteva mettere in gioco in questa commissione facendo leva proprio su quello che sull'impellenza più dell'anima che del lavoro. Non era più la legge del governo del territorio l'oggetto dei nostri dibattiti o qualche nuova circolare ministeriale da sviscerare, ma lì volevamo per un po' dedicarci ad andare a fondo alle nostre passioni. E da qui appunto è nata questa, questa idea di fare un ciclo di interventi che andasse a sondare proprio il rapporto fra forma e strutture. in architettura, quindi questa stretta relazione fra architettura e ingegneria e l'idea era quella... Le idee sono state tante in effetti. All'inizio avevamo un carnet di appuntamenti, veramente è stato difficile anche scegliere e fare un po' una scrematura perché è un tema che offre molte riflessioni. L'idea era quella allora di semplificare, ma cercare di tenere un percorso, quindi affrontare il tema in termini storici, quindi il rapporto fra forma e struttura nel tempo, come è stato affrontato, e poi andare a vedere anche come le nuove studi di generazioni contemporanee hanno approcciato il tema. Quindi la fase più bella forse è stata anche organizzare, pensare, anche lì era un po' come fare l'attesi, quando puoi fare in grande nella fase di progettazione anche degli eventi. In realtà abbiamo pensato in grande, abbiamo avuto la fortuna anche che la risposta... Abbiamo avuto appunto la fortuna di conoscere persone veramente sia dell'Università di Trento, ma anche dei studi professionali veramente che ci hanno arricchiti molto. Mi sono segnata le domande. Le forze, la forza è stata proprio una forza propulsiva interna, viscerale, una passione, quindi lo facevamo anche magari se il tempo era stretto. Guardo Daniele, manca Alessandro Busana che è lì che lavora. Scusate, rido, ma in realtà, poveretto, mi dispiace perché ha lavorato tanto e avrebbe un bel posto anche lui qua assieme a noi. E allora grazie Alessandro che... E quindi c'è stato un clima fin da subito di amicizia, ma anche di volontà di andare a fondo nelle cose. È un mondo in cui si corre, è un mondo in cui c'è tanto da fare, è un mondo che ci offre tantissimo e spesso ci rimaniamo nella superficialità delle cose. E quindi l'arte di farsi domande abbiamo capito. Questo l'ho capito, me l'ha proprio... me l'ha così reso palese Michelle Carlana quando, spiegandomi un po' del processo di realizzazione della scuola di musica di Bressonone, mi diceva che era partito da una domanda. Questa cosa mi aveva affascinato, l'idea di fare le domande, le domande giuste, anche semplici, fondamentali, che stimolano, stimolano un andare un pochino più in profondità anche sul nostro lavoro. E quindi ecco, andare la forza di... La forza è stata nella passione, lo stimolo è stato quello di andare più in profondità, in temi che poi affrontiamo ogni giorno. Cosa ricercavamo? Cosa ricercavamo? In realtà, riguardo Daniele, penso che siamo stati fortunati. Cercavamo delle risposte, ma soprattutto cercavamo dei punti di vista freschi, nuovi. E la cosa interessante è che la freschezza l'abbiamo trovata tanto nel passato quanto nel futuro. Io parlo di Michel, ma anche lo studio Guidotti di Svizzero. Erano freschi allo stesso modo come gli approcci che erano stati usati nel passato dalla grande storica ingegneria italiana. Tuglia Iori ci ha veramente fatto una panoramica entusiasta. Quello che abbiamo ottenuto è sicuramente voglia di studiare, riprendere in mano quella che è la storia, quello che è la produzione contemporanea, e quindi la voglia di vedere. Forse ci siamo dimenticati di dire che Emiliano Leoni adesso è alla guida del CITRA, il Circolo di Architettura Contemporanea. Anzi, vi invito tutti a andare a dare un'occhiata a che cosa si tratta. e ci offre lo studio. Posso fare pubblicità? Ci offre l'occasione di andare a vedere. Architettura del passato, architettura contemporanea estremamente interessante, ma qua la cosa più bella è il viaggio in pullman e il dibattito, la parte proprio di condivisione. Il tipo di dialogo è stato un dialogo estremamente interessante perché eravamo un dialogo... Mi sfugge la parola. Forse sa cosa vuol dire quando mi sfugge. Un dialogo paritetico. Cioè ognuno aveva il suo contributo da dare, ognuno aveva un punto di vista da dare molto arricchente, e quindi finisco perché sennò non... E quindi il tipo di dialogo è stato un dialogo che ha offerto punti di vista estremamente diversi perché c'erano figure molto diverse all'interno del libro. All'inizio pensavamo che fosse quasi troppo frammentario di non riuscire a dare un filo conduttore o comunque una trama, un tessuto connuttivo sufficientemente forte da dare struttura al libro. E in realtà invece questi punti di vista, a parer mio, sono la ricchezza di questo libro. Grazie. Grazie Valentina, grazie. È importante che hai proprio rimesso un po' anche il ruolo dell'ingegnere al centro poi delle attività di questo tipo, del pensare all'architettura, di pensare agli spazi e di pensare poi a queste macchine che poi servono all'uomo per vivere le esperienze. Vorrei ora chiedere a Daniele Capelletti. Daniele Capelletti fa parte del collettivo Campo Marzio che conoscete abbastanza tutti. È un collettivo molto importante che dà veramente tanti spunti nel pensiero architettonico contemporaneo qua in Trentino. E a Daniele volevo fare due domande. Prima te ne faccio una, poi due riflessioni. La prima volevo capire anche leggendo il testo che avete scritto e proprio il titolo. Tutto il significato evidente e anche più intrinseco evidentemente che c'è attraverso, che voi avete pensato attraverso poi questo titolo particolare che è a Fon Follows. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie per l'ospitalità in questi spazi bellissimi che si mi fanno ricordare quando ero studente anch'io e insomma mi sarebbe piaciuto sicuramente come spazi studio sarebbero stati necessari. Ogni progetto di percorso di ricerca che poi può confluire in una conferenza, in un libro, è un progetto e come ogni progetto è un progetto collettivo. Quindi prima di tutto vorrei ringraziare appunto Valentina e il professore Campolongo, Mulazzani, Cristiana per i consigli perché quando si è voluto indagare il rapporto tra forma e struttura abbiamo prima condivido con loro l'idea e poi loro ci hanno aiutato anche a trovare i relatori più interessanti con questo mix di relatori storici e anche professionisti perché è sempre interessante quando c'è un rapporto tra teoria e classi, questo è fondamentale. Il percorso è nato appunto dalla ricerca di trovare questo messo tra forma e struttura e quindi il titolo stesso che sostanzialmente è un rifacimento del celebre motto di Sullivan Form Follow Function è stato storpiato in Form Follow Structure perché l'obiettivo era quello di evidenziare questo rapporto che nella storia dell'architettura è sempre un po' sotto traccia. Un po' perché il movimento moderno è stato narrato in maniera molto semplificata a volte come attraverso un'evoluzione di stilistica moderno spesso viene raccontato come l'abolizione di ogni decorazione e quindi soprattutto dal punto di vista degli stili delle decorazioni. In realtà se noi andiamo a guardare sotto traccia l'avvento del moderno è qualcosa di molto più strutturato appunto. Ho qui solo due citazioni di alcuni libri di Le Corbusier e Miss Van Der Rohe che scommet sono molto chiari in tal senso. Nel 23 Le Corbusier scriveva Gli ingegneri fanno dell'architettura perché impiegano il calcolo derivato dalle leggi della natura e le loro opere ci fanno sentire l'armonia. Quindi pensiamo Le Corbusier, capostipi del movimento moderno negli anni 20 guardava le opere di ingegneria perché vedeva in quelle opere che erano i silos, le grandi fabbriche una nuova forma estetica che l'architettura ancora non aveva raggiunto. Oppure aggiungeva poco più avanti la diagnosi è per cominciare dall'inizio che l'ingegnere procedendo per conoscenze indica il cammino e possiede la verità in questo tono un po' enfatico, tipico di questo libro che era un manifesto però mi ricordo quando avevo letto questo libro e ero ancora studente mi avevo un po' spiazzato perché da studente ero venuto con la visione stereotipata, semplificata che i due ambiti ingegneria e architettura fossero separati l'ingegneria si occupa della tecnica della parte scientifica l'architettura della parte estetica questa è una visione comune in realtà veniva fuori da questi testi che gli architetti moderni guardavano alle opere di ingegneria tra l'altro molto precedenti a loro perché diciamo molte di queste opere sono quelle opere che si sono sviluppate da metà ottocento con la rivoluzione industriale con l'avvento di nuove tecnologie l'acciaio, il cemento nelle quali gli ingegneri che erano se vogliamo anche molto più liberi da costruzioni anche teorie decorativistiche che erano di moda in quel periodo avevano costruito queste architetture queste infrastrutture che in realtà erano molto più affini usando un'espressione che si usava in quel tempo allo spirito dell'epoca e lo stesso Mitz van der Rohe un po' più tardi scriverà la tecnologia è molto più che un metodo essa costituisce di per sé un mondo in quanto metodo è superiore sotto quasi tutti gli aspetti ma soltanto dove viene lasciata interamente a se stessa come nelle costruzioni di macchinari o nelle gigantesche strutture degli ingegneri soltanto qui la tecnologia rivela la propria vera natura qui appare evidente che essa non è solo un utile strumento ma che è un qualcosa un qualcosa di autosufficiente un qualcosa che possiede un senso una forma efficace così efficace che non è facile darle un nome quindi a me colpiva il fatto che appunto questi due capostipiti dell'architettura guardassero le opere di ingegneria e rintracciassero in quelle opere una sorta di verità che non era volutamente estetica ma che nella realtà poi esprimeva una chiarezza, una linearità che l'architettura ancora a quel tempo non era riuscita a raggiungere si può aggiungere a questo Schinkel che ancora prima nell'826 era andato a Manchester e vedendo queste fabbriche mattoni molto semplici arriva a rintracciato di questo principio di architettura moderna che poi applicherà le sue opere e questo secondo me decostruisce un po' questa visione della storia come evoluzione stilistica e forse anche la narrazione appunto dell'architettura moderna come architettura funzionale in realtà la struttura ha sempre giocato un ruolo fondamentale nelle opere di architettura e le opere migliori di architettura sono le opere nelle quali c'è un'identità quando la struttura e la forma e lo spazio nascono assieme questo è fondamentale quindi se vogliamo guardare un po' il passato ci sono penso due momenti in cui il ruolo dell'ingegneria emerge in maniera paradigmatica sicuramente in epoca antica l'avvento dell'ingegneria romana crea uno stacco netto incredibile nell'architettura che se la guardiamo dal punto di vista stilistico è ancora affine l'architettura greca e quella romana hanno una linearità diciamo degli stili riconoscibili e congruenti però la spazialità che è presente nel pantheon per fare un esempio che è un edificio che è stato possibile costruire solo con l'avvento ad esempio del cimento dell'ingegneria romana dell'utilizzo delle strutture che lavorano per forma ha determinato la nascita di un'architettura che era completamente diversa ad esempio da quella del partenone dove la spazialità ovviamente predominante è quella esterna pensate solo che ad esempio i tempi greci non erano fatti per essere vissuti all'interno solo il sacerdote poteva entrare l'altare era all'esterno mentre il pantheon ha definito una spazialità che prima ovviamente non era possibile questo grazie all'avvento della tecnologia di nuovi materiali e nell'ottocento sostanzialmente è successo più o meno la stessa cosa quindi pensiamo nel giro di pochi anni nell'ottocento e cinquanta come le città sono state rivoluzionate in Parigi con Ausman con Barcellona con Serdà c'è stato l'avvento dei politecnici l'avvento delle ferrovie nelle città e questo ha comportato la necessità di costruire costruzioni mai viste prima le stazioni che dovevano accogliere una massa di gente che prima non esisteva e questo sviluppo dell'architettura diciamo dell'ingegneria come è stata più volte definita ha creato uno stacco netto perché si trattava di tipologie nuove tecnologie nuove e questo poi ha avuto in realtà un'influenza molto successiva sull'architettura moderna che ha colto lo scarto che c'era tra l'architettura e l'ingegneria e diciamo anche il grande merito di Le Corvosie e Miss Van Der Rohe è stato anche quello di avere questa sensibilità estetica, sociale, storica si sono resi conto che l'ingegneria era molto più avanzata in quel tempo dell'architettura e quindi hanno colto dalle opere di ingegneria una verità estetica che probabilmente non era neanche nell'intenzione degli ingegneri ma poi è stata riversata nell'architettura Grazie, grazie Daniele e un altro piccolo passaggio voi siete un collettivo fate tantissimi concorsi per chi pensate che l'architettura poi dal confronto nasce migliore e volevo capire nelle vostre attività adesso di produzione di architettura o produzione insomma di immaginare delle architetture contemporanee e le altre attività di ricerca che fate mi viene in mente per dire Bolzer dove comunque state avete fatto questa grande ricerca sull'housing sociale dove anche un certo tipo di struttura veniva messa in evidenza perché erano gli anni dove ancora emergeva comunque in maniera chiara questo tipo di aspetto delle strutture dell'architettura volevo capire uno quanto il progetto di ricerca per voi è importante tipo Bolzer dove cosa vi può portare quando poi andate a immaginarvi del lousin e l'altro proprio questo tema che nell'immaginare queste architetture attraverso le ricerche e i concorsi come voi dialogate con gli strutturisti che tipo di impostazioni avete nel cercare di avere dei rapporti che siano efficaci e che sono efficaci visto anche i risultati che voi state ottenendo ma diciamo sin dall'inizio della nostra attività la ricerca è sempre stato un po' il punto di partenza prima se vogliamo della pratica dell'attività professionale un po' per motivi contestuali nel senso che quando siamo usciti da questa facoltà eravamo appunto al centro della crisi economica del 2008-2009 e quindi il lavoro soprattutto nell'edilizia era poco e adesso viene quasi da rimpiangere diciamo il fatto che ci si potesse dedicare alla ricerca a tempo pieno però è stato fondamentale perché partendo dalla ricerca poi sono nate anche occasioni di lavoro e sulla collaborazione con gli ingegneri è questo un tema un po' dolente nel senso che è difficilissimo trovare ingegneri con i quali collaborare sin dall'inizio del progetto questo forse era anche uno dei motivi che ci ha spinto a fare questa pubblicazione queste conferenze e che penso potrebbe essere utile per questa facoltà cioè il senso di questa facoltà il corso di ingegneria e dell'architettura sarebbe forse quello proprio di creare delle figure che non sono ibride ma sicuramente degli architetti che sappiano dialogare con gli strutturisti sin dall'inizio degli strutturisti che lavorano ad esempio sulla forma degli edifici purtroppo attualmente siamo arrivati a una separazione specializzazione dei saperi per i quali quasi mai si riesce a collaborare sin dall'inizio alla genesi del progetto l'ingegnere purtroppo è chiamato a verificare come si dice attualmente i calcoli quindi a un'impostazione strutturale già fatta e questo vale poi anche con gli impiantisti e purtroppo molto raramente difficilmente si riesce a stabilire una collaborazione sul progetto dall'inizio questo è un aspetto deleterio insomma quello di architettura grazie grazie Daniel sì che poi estendi anche un po' questo dialogo anche con tutti gli altri saperi che riguardano soprattutto gli impianti oggi in un mondo di sostenibilità fare un ragionamento delle riflessioni come quelle che sono state fatte sulla struttura penso che sarebbero veramente centrali per capire se fosse il meno oggi potrebbe essere anche il valore aggiunto su un certo tipo di impostazione soprattutto degli impianti insomma abbiamo qua il professor Baggio che lui è sicuramente una persona che sicuramente dal punto di vista culturale di queste cose le sa affrontare ma credo che anche qua ci potrebbero trovare veramente dei legami degli liaison molto forti adesso vorrei chiedo un po' varie riflessioni a Michelle Carrana che è anche un po' l'ospite che viene da fuori porta e dunque ne approfitterò anche un po' l'esotico l'esotico il tema dell'esotico che ci affascina sempre comunque Michelle questa cosa è anche molto importante io ho quattro temi che volevo trattare uno parte poi da questa riflessione che è una cosa che piace molto è stato citato il CITRAC prima ti ringrazio come dire noi abbiamo sempre pensato che l'architettura in certi luoghi nasce perché ci sono delle forze che te la fa nascere in un determinato modo allora a me interessava molto un tuo approfondimento in questa tua frase che dici lo spazio inteso nel senso più arcaico del termine vede la quasi totale coincidenza tra struttura e architettura un'idea di spazio che deve rapportarsi con il luogo la tradizione la geografia e il tempo ecco questo cominciare a legare poi questi due ambiti che sembravano poi così potenzialmente astratti cercare di portarli invece andare a cercare queste caratteristiche che sono caratteristiche di zone di ambienti di culture ok di culture di tradizioni questa è una cosa che mi affascina dunque quindi partiamo con questo vuoi dirmi di tutti partiamo con questo vuoi che te ne dico no 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 partiamo con questo perché sono i miei blocchi ma intanto buonasera a tutti e grazie mille per l'invito sia appunto a questa serata che al convegno a questa conferenza che abbiamo fatto nonché anche alla partecipazione di questo libro e grazie anche a voi per essere qui vorrei anche poi fare un complimento nel senso che chi non fa libri non sa quanta fatica ci sia dietro a un libro del genere e quindi un sincero complimento per aver messo insieme anche autori molto differenti e aver sintetizzato in questo libro che è sicuramente un piccolo tassello io mi conoscete un po' da vicino e credo i libri siano una delle vere testimonianze oltre all'architettura infatti noi facciamo anche libri in studio un altro giorno ero a fare una conferenza e ho esordito proprio dicendo questa frase che teniamo tanto che per noi i libri sono piccoli edifici che rimangono nel tempo molto di più della tecnologia e ve lo dice uno che non ha 90 anni quindi davvero un sincero complimento allora il primo tema che è legato al concetto di luogo sicuramente nasce da una formazione che anche abbiamo come ufficio che ci siamo formati a Venezia ed è sicuramente una facoltà che si porta dietro a una tradizione che è però anche una tradizione italiana secondo me in questa tradizione italiana che stiamo esplorando nell'ultimo periodo con delle ricerche in studio piuttosto che appunto con delle collaborazioni in riviste o altro stiamo riscoprendo sempre di più una totale coincidenza tra struttura architettura urbanistica e arte ed è una cosa che c'è stata in Italia fino agli anni secondo me 70 e poi si è volatilizzata vedila per un po' un calo delle accademie che appunto non avevano più una compresenza di saperi vedila per un certo tipo di economia che è cambiata vedilo per non lo so a un certo punto è scemata e un po' l'esercizio che si sta provando a fare è di quello di ricercare questa cosa e lo si fa attraverso quello che un po' rendeva importante secondo me ma dico noi come ufficio l'architettura italiana ed era la specificità che ha un luogo porto in esempio dei lavori che abbiamo fatto che magari sono un po' più conosciuti e credo proprio nella specificità dei luoghi e per me significa la struttura l'architettura lo spazio perché oggi si parla di struttura e appunto forma per me significa spazio che poi abbia più o meno decorazioni che assorba o meno il tempo e quant'altro ci sia proprio un tema da recuperare appunto abbiamo fatto questi lavori ripeto l'altro giorno ero casca occhiello questa cosa perché sono preparato e l'esercizio che abbiamo provato a fare è mostrare come il fatto di lavorare con delle specificità che possono essere anche di nel nostro caso questi due edifici che abbiamo fatto a Bressanone che sono distanti 500 metri di distanza attraverso un metodo e attraverso un rigore che abbiamo imparato e magari dopo se ne può parlare da delle frequentazioni che abbiamo avuto molto importanti che sono non sono architettoniche ma sono legate all'ingegneria che sono un architetto ma anche quando siamo venuti a presentare alla conferenza ho raccontato ciò che abbiamo imparato dagli ingegneri abbiamo avuto la fortuna o la necessità quando eravamo al quarto anno di università di provare a capire che cosa fosse questa cosa questa materia chiamata ingegneria di cui nessuno a scuola mai ci parlava e allora abbiamo deciso di farlo attraverso un libro che era di uno dei più importanti ingegneri che ci sono a mio avviso al mondo da lì abbiamo capito proprio questo tema dell'ascolto il fatto di lavorare in un luogo e il fatto di essere specifici ti obbliga a sapere ascoltare e la vera scoperta la vera gioia è che in realtà tu sei incredibilmente creativo in questo senso qua in sommario direbbe questo termine ma sei davvero fecondo nella progettualità ripeto se tu sei ascoltare un luogo e ascoltare il luogo significa ascoltare le peculiarità guardarne l'orientamento guardarne la matericità i flussi gli usi le pratiche tutto quello che va inserito in un calderone appunto facendosi domande sempre elementari cioè che cosa vedo che cosa guardo fa caldo fa freddo quelle che basta prendere su qualsiasi tipo di qualsiasi libro di Lombatista Alberti te le ritrovi lì ed è di un'attualità che è incredibile che io suggerisco di leggere molto più quello che non chissà che ricerche contemporanee perché alla fine le domande sono sempre quelle solo che ripetendoti come una cantilena delle domande semplici escono a nostro avviso opporre delle domande semplici così significa partire in modo appunto più primitivo ti porta a delle soluzioni inedite quindi in questo senso per noi il luogo inteso come le sue specificità o le sue un'altra parola importante condizioni ti aiuta a inventare determinate soluzioni questo un po' per provare a rispondere a quello che è un po' grazie e poi mi piaceva nella ricerca di questo equilibrio quando tu dici dovrebbe sussistere un margine ambiguo in quella non totale coincidenza un momento piccolissimo in cui architettura e struttura accolgono un'ulteriore disciplina l'arte ma anche questo tema di ricercare un po' l'ambiguità è molto interessante perché proprio come citra qualche mese fa abbiamo fatto una conferenza del professor Walter Angonese che è direttore dell'accademia di Membrisio e anche lui insomma è molto affascinato e lavora proprio su questa ricerca spesso dell'ambiguo perché quelle cose che poi si riescono a capire solamente con delle riflessioni che poi ti portano a capire altre cose che magari sono più semplici mi piaceva capire come voi declinate questo lavoro come tu declini questo tipo di tuo pensiero ok è molto complicato nel senso che è ambiguo quindi sfugge ci si allora parte da un presupposto che ti fa lavorare non partendo da uno stile cioè se io lavorassi con uno stile faccio gli edifici sempre rossi ok mi è impossibile essere ambiguo cioè sono uno perché sono sempre riconoscibile e due perché tra l'altro per come la pensiamo noi può essere che io diventi sterile nel senso che c'è una ripetizione e quant'altro l'ambiguità è una cosa molto filosofica oltre che formale è una caratteristica che per la chiamo architettura ma per me architettura è architettura struttura sostenibilità urbanistica contiene tutto è molto bella questa immagine anche della copertina perché in realtà non è struttura questa questo è un luogo cioè grazie alla struttura è riuscita a creare un luogo collettivo coperto questo pilastro questa serie di appoggi la ricerca dell'ambiguità perché perché consente all'edificio meglio è un'ambizione che consente all'edificio di non appartenere solo alla generazione che lo sta vivendo ma potrebbe se si è fortunati appartenere a delle altre generazioni cioè sono delle cose che ancora non riusciamo a percepire non riusciamo a cogliere a toccare adesso ma è talmente interpretabile che può essere accolto anche da delle generazioni future questo perché perché siamo ripeto voi mi conoscete in particolar modo un po' di più perché la cosa bella di quando si fanno i libri è per quello se ci sono degli studenti fatene è che qui i libri si conoscono anche degli amici tutti quelli che abbiamo fatto ne abbiamo poi conosciuto degli amici perché è un percorso è un viaggio il libro noi siamo molto attaccati al concetto dell'invecchiamento di un edificio e da lì allora anche non è solo un tema di struttura ma è anche un tema di tecnologia cioè in che modo l'acqua giudica un edificio poi in che modo un edificio assorbe il tempo ne assume delle criticità e quant'altro quindi in questo senso il tema dell'ambiguità che non è una disciplina che trovi se come nell'architettura ma la trovi molto di più nell'arte e lo dico perché vabbè ero un pittore quindi mi affascina molto di più quell'aspetto là è una cosa che secondo me l'architettura oltre appunto ad abbracciare l'urbanistica l'ingegneria deve abbracciare anche questa sfera qui che è una sfera ripeto impercettibile che ti può emozionare e quant'altro che può sfociare in un trattamento particolare di una superficie di una lavorazione del materiale non è un caso che spesso l'arte arrivi sempre molto prima rispetto all'architettura se uno pensa alle opere di Richard Serra di un determinato periodo storico poi sono state replicate vent'anni trent'anni dopo Eden Donald Judd tutta una serie di riflessioni te le ritrovi dopo più tardi quindi in questo senso è una cosa molto difficile da spiegare è una cosa che richiede molti tentativi quindi risponderti in modo operativo in che modo gli edifici che noi progettiamo assumono questa questa sembianza facendo moltissimi plastici modelli lavorando con la materia facendo dei mock-up lavorando moltissimo con trattando i materiali e le tecnologie come se fossero delle tavolozze artistiche ma non applicate dopo che siano esse stesse autenticità un'altra cosa molto importante della coincidenza tra struttura e architettura è che ti porta a fare delle opere autentiche secondo me che è una cosa che appunto ripeto da studenti non sentivamo mai appunto quando ho fatto l'altra volta la conferenza perché è nato quel libro che l'ha sul tavolo su concept perché nessuno ci parlava di queste cose nessuno ci parlava degli italiani che lavoravano in questo modo all'università mi faceva specie salvo due tre corsi era assurda per noi come cosa quindi anche recuperare attraverso altre discipline e questo l'ho imparato molto da questi ingegneri da concept piuttosto che Mario Monotti che è un altro ingegnere bravissimo a mio avviso svizzeri entrambi però con una forte un forte attaccamento a quella che è anche l'ingegneria italiana appunto tutti questi svizzeri non facevano altro che parlarci degli italiani abbiamo una tradizione mostruosa io sono cresciuto a Padova e mi fa specie per provare a rispondere anche a te alla domanda di prima non troviamo ingegneri con cui lavorare cioè è assurdo cioè è una cosa drammatica come e quegli ingegneri lì la cosa interessantissima è che si sono formati tutti da degli architetti e questa è la cosa interessante cioè come gli architetti sanno parlare la lingua dell'ingegnere alcuni studi che ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare quegli ingegneri si erano formati negli uffici di architettura più importanti che c'erano ma tanti anni Zuntor nove anni concept nove anni nell'ufficio di Zuntor cioè vuol dire che parli lo stesso linguaggio sono completamente d'accordo con quello diceva prima Daniele sul fatto che forse non serve questo è un discorso universitario accademico forse non servono delle scuole in cui si provi a insegnare di tutto ma forse servono delle scuole che insegnano delle cose semplici a figure anche differenti ma che insegnano a parlarsi cioè se non ci si parla cioè se io faccio un progetto dove uno spazio è inteso in un determinato modo e la struttura nella mia testa ragiona perché quando progetto uno spazio non faccio uno schizzo e poi chiamo il verificatore no cioè ha già in sé nella sua essenza l'ingegneria se poi telefono un ingegnere questo i pilastri sono così e mi arrivano dieci volte tanto non è un rapporto paritario oppure arriva un impiantista tubi ovunque perché tra virgolette è moderno no cioè nel senso ci deve essere forse un dialogo per un medesimo obiettivo che non è il vezzo architettonico dell'architetto ma è un'idea di spazio per la comunità altra cosa che ci siamo dimenticati sempre per esattamente quelle basiche è stato toccato uno dei temi che mi piaceva anche portare un po' alla riflessione un po' di tutti no tu Michelle parti no con questa voglia di capire queste cose fai questo grande viaggio in Svizzera poi insomma conosci soprattutto Konzett Bronzini Gartman scrivi un libro e cerchi di capire come loro riescono a pensare le strutture insieme a degli architetti che viceversa assieme loro pensavano già degli spazi e questo tuo lavoro di ricerca che lì è stato questo viaggio poi è nato questo libro che tra l'altro è un libro introvabile ma che c'è qua fuori perché è in possesso evidentemente di questa di questa biblioteca poi tu sei andato avanti con questa ricerca perché oggi tu tra l'altro siamo contentissimi sei nel team editoriale di Casabella ma probabilmente ci sei arrivato anche perché hai fatto un certo tipo di percorso è interessante questo qua l'ho preso in prestito un attimo qua da voi e questo numero il 926 dove fai queste anche riflessioni con Mario Monotti con cui dopo voi lavorate anche ogni tanto dopo infatti ci potrebbe anche capire allora le due domande finali erano un po' queste uno e oggi se il tema della struttura sta ridiventando centrale e dunque ci sarà anche la necessità di un certo tipo di ingegneria io dico sempre va tornassi indietro forse dovremmo essere ingegneri un altro tipo proprio specificatamente nell'ingegneria pura perché credo che oggi ci sia una necessità da parte poi degli studi di architettura di potersi divertire in questo come questo qua visto anche l'interesse che c'è in quello che è il nostro high end italiano dell'editoria sull'architettura che è Casabella hai visto anche il tuo ruolo lì e poi volevo capire come l'esperienza con questi personaggi so che hai fatto anche un concorso recentemente con Monotti e come anche il vostro studio ha cominciato a evolvere andare a cercare delle persone che riescono a dare dei contributi e come funziona poi questo scambio perché sono proprio curioso anch'io di capire queste cose tutto che ci fa riflettere Daniele tutto quello che ci potrebbe mancare in queste tipe quando invece noi ci troviamo magari a dover affrontare le architetture soli beh allora partiamo dal dal primo tema quelle due operazioni definiamole così sono nate per caso non erano minimamente consci di quello che stavano facendo secondo me la prima me ne rendo conto a undici anni dopo dodici o meglio è nato nel 2008 quel libro lì quarto anno di università durato tre anni e ci ha fatto entrare dentro a 24 uffici di architettura molto importanti oltre che avere un piccolo master in ingegneria mi dovrebbe da dire che ci serve molto per difenderci quando chiacchieriamo con questi ingegneri che la pensano in modo differente in realtà è stato interessante perché poi dal co ho capito subito noi volevo fare un piccolo libricino proprio su concept invece ho capito l'importanza dell'idea perché volevamo chiedere agli architetti di parlarci di ingegneria cioè lì ognuno di quei di quei paragrafi abbiamo intervistato lo studio che ci ha narrato il progetto con gli occhi dell'ingegnere quindi ci piaceva molto questo casi cambio di lente questo cambio di occhiali e questo ci ha fatto proprio appunto come dicevo prima capire in realtà che la cosa più interessante non erano gli architetti ma era come l'ingegnere li ascoltava e ogni volta sapeva reinventarsi e questo è un libro proprio nato per caso l'altra cosa è che questa esperienza invece più redazionale la sto vedendo un po' come un'occasione per approfondire dei temi che mi interessano e conoscere delle persone molto molto profonde quel libro quel numero che tu mostri sono le mie vacanze estive dell'anno scorso perché mi è costato tanti mesi di lavoro un articolo bello importante nella rivista e mi ha fatto conoscere appunto Mario Monotti che lo conoscevo perché se conoscete Christian Kerez che è uno a mio avviso degli architetti più importanti che abbiamo al mondo un architetto svizzero molto molto bravo e l'ingegnere di questo architetto è questo Mario Monotti che come sua prima opera ha fatto una delle opere a mio avviso più interessanti che ci sono di architettura contemporanea che è la scuola di Leuchenbach a Zurigo vi suggerisco di andarvi a vedere ecco quindi dovete assolutamente far parte di questi viaggi e sono appunto delle occasioni per approfondire dei temi e sono delle occasioni per darmi una mano a vedere anche l'architettura in un modo differente tu prima appunto poi chiedevi un po' anche il dialogo sono state delle occasioni che poi ci hanno permesso di lavorare sia con Concept che con Monotti o cito un altro studio che è ZPF Ingegnerie che sono questi ingegneri di Erzade Meron piuttosto che di Christian Gantenbein e c'è un approccio che è completamente diverso cioè nel senso che è un ping pong cioè tu in certi casi ad esempio ed è un dialogo che abbiamo capito subito come funzionava perché quando ad esempio parlavamo non so con Miller Maranta di un progetto Miller Maranta sono questi architetti molto bravi di Basilea in quel libro lì ci ha pubblicato ad una scuola e lì è stato interessante perché ci raccontavano come in realtà l'edificio fosse l'idea dell'ingegnere non c'era un un attaccamento proprio così di paternità dell'opera c'era una bellissima condivisione per un obiettivo comune e forse anche questo dovremmo un po' dimenticare mettere un po' da parte questa volontà a tutti i costi di essere degli autori non lo so perché poi automaticamente poi in realtà lo diventi anche senza per forza partire da questo presupposto di voler imporre degli stili o quant'altro in quel caso lì era molto interessante proprio questo aspetto qui e quando abbiamo lavorato sia con Bronzini a un lavoro piuttosto che con Mario Monotti a un recentissimo concorso o con degli altri ingegneri molto di altissimo livello è un dialogo che è sulla coerenza non è più su mi piace o non mi piace è su ho un'idea e devo essere il nostro gruppo che è aperto anche ai baesaggisti piuttosto che ai grafici deve essere coerente con quell'idea lì per riuscire però a instaurare questo dialogo tu devi saper parlare con chi ti è di fronte e quello che dicevo prima devi saperlo ascoltare quindi devi assolutamente avere una capacità appunto di ascolto ma devi avere anche delle basi e quelle te le deve dare alla scuola ripeto la fatica dei libri e la fatica di quel libro è stato che noi abbiamo dovuto imparare con le nostre forze un linguaggio che non conoscevamo e per linguaggio non parlo di appunto un'estetica parlo proprio di alcuni di una grammatica di alcuni principi base per capirsi per dialogare per capire che cosa è lo spazio per capire che appunto quando uno ti mette il foglio così che non sta la forma invece così sta c'è tutta una serie di basi che ti devono assolutamente arrivare dalla scuola per me in questo la scuola è importantissima prima appunto invece parlavi del ritorno alla struttura ok di cosa può succedere adesso e io un po' questo frammento acerotemporale nel senso che quando noi abbiamo fatto quel libro e lo dico a seno di poi non c'era nessuno che parlava di quella cosa là questo è un dato di fatto perché basta vedere però in Italia io non c'era e l'architettura in quel momento lì stiamo parlando del 2008 non vedeva questa forte coincidenza tra struttura e architettura ed è una cosa che è uscita negli ultimi 5-6 anni è tornato il brutalismo è tornata tutta questa coscienza qua e anche questa estetica e io ora invece vedo un problema sorgere un problema nel senso che io avevo mostrato questa slide qui alla conferenza adesso non si vede tanto per intenderci io faccio sempre una battuta perché nelle conferenze uno deve fare ogni tanto le battute se no la gente prende sonno allora io mostro sempre questa slide non si vede molto ma c'era una culturista e poi c'era una statua del canova e faccio sempre questa slide per mostrare come noi pensavamo fossero le strutture prima di conoscere concept e dopo averlo conosciuto abbiamo capito questa ricerca sulla grazia perché è quello il tema vero secondo me che uno deve ricercare quando lavora nel tema dell'ingegneria e dell'architettura la grazia quello che invece sto vedendo è un ritorno alla donna muscolosa c'è una tendenza in cui se tu per vincere un concorso sei in Svizzera facciamo finta o mostri i muscoli cioè fai delle strutture scheletriche forti oppure sembra che tu non abbia una coscienza della struttura e questa è la cosa che non ho imparato da quei grandissimi maestri che sono concept o monotti cioè tu devi appunto capire qual è la struttura più coerente per dire o dare qualcosa che è una cosa che sta avvenendo un po' meno cioè c'è un talmente un tanto ritorno forse si è passati forse troppo bruscamente da il mondo degli strati perché era questo che accadeva negli anni 90 purtroppo 90-2000 edifici ipertecnologici che però hanno delle vite abbastanza brevi io preferisco un'architettura più arcaica laddove serve perché se invece serve qualcosa di temporaneo è corretto lavorare con la temporaneità ma vedo un fortissimo ritorno c'è proprio una voglia di dimostrare proprio la muscolatura degli edifici cioè è anche tutto un tema di nudità degli edifici anche per tornare a quello che si diceva a pranzo con Valentina ci sono dei bellissimi libri che stanno affrontando il tema alcuni di Valerio Paolo Mosco molto interessanti e anche un numero monografico uscito recentemente di IQR adesso mi ricordo la rivista magari dopo ve la dico che tratta di nuovo il tema della nudità però il rischio che io vedo ripeto avendo avuto la fortuna di parlare e avendo la fortuna di parlare quotidianamente con questi ingegneri qui è proprio invece un non avere più coscienza del tema strutturale cioè mostrare i muscoli i muscoli a prescindere e quindi per quello per me è molto importante anche in queste sedi qui proprio far capire l'importanza della coerenza che deve avere una struttura con un luogo e con delle esigenze che sono magari appunto legate allo spazio collettivo e quant'altro questo per poi non può rispondere a tutto quindi poi mi taccio grazie grazie Michelle no è importante che metti in mostra anche questo saper fare che le culture come dicevo prima poi producono anche delle architetture perché evidentemente una cultura italiana può avere anche poi dei fascini delle fascinazioni e dei pensieri sulle armonie molto diverse da una cultura magari più prettamente svizzera poi immaginiamoci questi grandi edifici che devono essere mali molto muscolosi ma che poi sono iper sofisticati dal punto di vista tecnologico perché insomma i ponti termici comunque bisogna risolverli non siamo nell'epoca del brutalismo giusto non siamo in quella linea del brutalismo sudamericano dove ti puoi permettere di nuovo tante alcune cose perché anche quello ci affascina molto eccetera e no Michelle ti ringrazio devo anche ringraziarti perché tu sei stato il tramite che qualche anno fa abbiamo fatto una conferenza con Your Concept che è stata straordinaria su un percorso paesaggi paesaggi di legno insomma dove si metteva al centro un po' quella cultura lì dove abbiamo avuto te e Concept e dopo c'era stato John Caminata e da lì però emergeva anche tutte queste che sono delle persone super semplici che loro stanno veramente io mi ricordo in queste riflessioni di Concept dove lui diceva sì questo qua lo vedete così sembra una cosa molto complessa però in realtà era la struttura d'arcata che c'era nel teatro nell'oratorio nella parte alta di una chiesa se non ricordo male e perciò capire che anche loro da degli elementi da delle osservazioni basi dei piccoli valli svizzere poi in realtà creano poi tutti questi grandi questi grandi grandi edifici che sono poi oggi molto ambiti per evidentemente il ruolo che le facoltà di architettura svizzere hanno oggi sull'imprinting e diciamo dell'architettura contemporanea e grazie e grazie anche di aver sollecitato poi che questa facoltà avrebbe proprio bisogno di questo iperdialogo e che probabilmente nei corsi che fanno ricercano che ci sia questo poter vedere le professioni come diverse queste ricerche di dialogo come te giustamente ci hai spiegato passiamo e abbiamo visto adesso quello che può essere quello come agita ecco l'ultima cosa mi piacerebbe capire il rapporto con Monoti non so se puoi parlarne nell'ultimo concorso che avete fatto so se è una cosa che si può parlare proprio per cercare di entrare un po' nel vivo dove sapevi che facevi un concorso in un contesto particolare dove sapevi anche già cosa qualcuno magari si poteva immaginare ma che comunque avete deciso di percorrere una strada una strada di questo però puoi fare un passaggio per quello che puoi due battute sul concorso era un concorso sempre a Bressanone per un centro sportivo molto importante circa da 50 milioni di euro quindi un'opera importante con dei palazzetti del ghiaccio delle palestre degli spazi per il tennis eccetera quindi era un'opera molto importante l'idea subito dell'ufficio che avevamo era quella di quando lavori con degli edifici così grandi e lavori in alcune aree di bordo era a sud della cittadina devi puoi fare una scelta e quando fai un concorso il concorso in realtà hai facciamo finta due o tre scelte che devi fare giuste e se questa che si chiama l'allineamento di pianeti magari lo vinci in questo concorso qui mando era molto chiaro facciamo finta che i pianeti da allinearsi erano a ventina quindi era un po' più complesso tra questi allineamenti una delle scelte che uno doveva fare subito era se approcciare a quest'area in un modo più mimetico diciamola così quindi più paesaggistico cioè dove l'architettura emula magari la sensualità dell'orografia oppure quello che abbiamo scelto noi sbagliando fare dei reali templi definiamoli così abbiamo deciso di fare tre edifici molto chiari molto secchi proprio perché era un'area di completamento urbana quindi è come se fossero stati un punto di limite tra il costruito e lo spazio aperto il fatto di aver scelto di fare degli edifici tra l'altro anche impilando le funzioni fatto sì che il consumo del suolo fosse stato ridotto al minimo quindi era molto paesaggistico in realtà cosa che però la giuria non ha compreso o meglio non ha apprezzato forse definiamolo così anche perché comunque il primo premio merita il primo posto quindi quando fai un concorso piccola digressione quando fai un concorso il primo premio è migliore del tuo te la devi mettere via appunto quindi era meritevole la cosa molto interessante era che volevamo abbiamo esposto subito a Mario una volontà di un'architettura che sì fosse molto classica però appunto fosse ambigua come dicevi prima cioè che fosse quasi impercepibile per uno che la guardava il limite dello spazio cioè il tema della soglia non doveva essere netto cioè non dovevano essere tre scatole le dette banalmente ma la struttura e l'architettura di conseguenza doveva essere qualcosa che sfumasse e la cosa interessante è che questa cosa valeva sia per la struttura che per il paesaggio tra l'altro quindi sia quei paesaggisti che con lo strutturista abbiamo lavorato in questa direzione qui sono state cinque chiacchierate e poi ripeto è diventato un amico adesso che per fare quell'articolo mi sono trasferito a casa sua quindi c'è un'informalità che di un certo tipo ci si capisce subito poi prima eravamo al telefono per parlare di un'altra cosa nuova che adesso veniamo a fare e lui ha capito subito ha fatto due schizzi mi li ha mostrati io faccio ma è così sì ok poi abbiamo fatto delle prove ok ci siamo risiediti il giorno dopo noi abbiamo fatto ne roviniamo molto con i plastici con i modelli perché è l'unico modo secondo noi per comprendere la struttura realmente perché il modello ti dà già la verifica cioè questo qui se lo metti qui cade sta così è più rigido quindi se ripeto ci sono studenti lavorate molto con i modelli e ti fa vedere realmente la luce cioè non c'è algoritmo di rendering che valga tanto quanto un modello per capire come funziona la luce luce tra l'altro intesa sia come illuminazione ma anche come luce strutturale per funzionare e lì lui ha capito subito un po' le necessità l'idea la coerenza appunto noi abbiamo messo in pratica determinate cose poi è stato interessante perché era un piccolo aneddoto era talmente in sintonia il dialogo che se c'era una trave non ci sono le immagini comunque se c'era una trave con un pilastro che era qui lui mi dice no guarda fa una prova mettendolo qui che è molto più coerente perché liberi l'angolo subito cioè non c'era più una paternità quello che dico prima c'è una ricerca della coerenza che è la cosa a cui teniamo di più cioè la materialità dell'edificio era quella della terra e quindi bisognava lavorare con degli inerti di un certo tipo eccetera eccetera un altro tema importantissimo che era sia strutturale ma anche pesagistico era il tema della raccolta dell'acqua figurati dobbiamo fare una copertura che è grande come appunto una pista da ghiaccio ed era interessantissimo poi anche lì determinate soluzioni che erano non riuscivi a distinguerle e questa è la cosa più bella secondo me quando i saperi non riesci più a distinguere non c'è più un autore credo sia questa proprio l'umiltà che dovrebbe avere un gruppo di progettazione quando non riesci più a distinguere se è mio o tuo e non mi interessa dire se è mio perché poi l'architettura adesso vi dico una cosa brutta ma non è più tua cioè quando finisce l'edificio è degli altri noi abbiamo fatto un altro libro che è su un architetto del novecento anche quello lì è un libro nato per caso e abbiamo fatto fare tutte le fotografie di queste opere che avevano che avevano attraversato il novecento e abbiamo deciso di farle con un unico fotografo tutte stuprate e io dico sempre alle conferenze che per noi è stato un trauma quello perché quando capisci che l'architettura non è più tua devi già ragionare che è degli altri e l'ambiguità deve essere proprio questa cioè deve essere più tuo ma degli altri quindi automaticamente gli dai un permesso di invecchiare in un certo modo e quindi questi dialoghi con Monotti come anche con i paesaggisti e quant'altro c'era proprio questa volere comune che era quello proprio di essere coerenti con un qualcosa che era appunto pensata per un tempo molto molto lungo grazie 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 Michele proseguiamo con la professoressa Cristiana Volpi docente di storia dell'architettura e volevo chiedere a lei due cose uno quanto è importante nell'affiancamento della storia dell'architettura la storia dell'ingegneria e poi volevo capire quanto i lavori i lavori che noi qua abbiamo visto di Tullia Iori o di Sergio Porretti sulla ricerca dei grandi dei grandi maestri dei grandi maestri italiani dell'ingegneria che come è stato detto prima in Svizzera studiano dalla mattina alla sera insomma i nervi i musmeci i zorzi e i morandi e come anche quei grandi lavori di ricerca sono importanti anche voi riuscite poi a farli diventare fondamentali per i vostri alunni e soprattutto per una facoltà come questa che è quella di ingegneria di ingegneria di ingegneria e di l'architettura tra l'altro anche perché anche perché non hanno ancora le competenze per ridisegnarli tridimensionalmente quindi l'esperienza del toccare del capire come funziona lo spazio è un'esperienza importante diciamo che i corsi di storia si sono un po' adattati al al percorso che gli studenti di ingegneria e dell'architettura devono fare perché alla fine saranno ingegneri e architetti e quindi devono avere delle competenze particolari e competenze che spaziano appunto dall'aspetto costruttivo dei progetti fino ad arrivare alla questione della forma per cui il tema del rapporto tra forma e struttura è un tema fondamentale sia nelle lezioni che faccio io al primo anno ma anche nelle lezioni che fa Fabio Campolongo poi al secondo anno proprio per dare agli studenti uno sguardo che sarà lo sguardo poi che avranno nel speriamo che avranno nel corso della professione vedendo Daniele Cappelletti forse ci siamo riusciti le fotografie che vediamo tra l'altro sono di Campomarzio la maggior parte delle fotografie pubblicate nel nel volume secondo me alcune sono davvero significative del senso di tutta questa iniziativa di tenere insieme vedere come stanno insieme forma e struttura e come sono stati declinati questi temi da architetti importanti perché abbiamo Libera abbiamo Miss Van Der Rohe insomma tanti protagonisti che sono poi quelli che vengono affrontati nelle lezioni e che vengono proposti come esempi agli studenti perché davvero la questione del rapporto tra forma e struttura è fondamentale per la storia dell'architettura del novecento e un rapporto che viene affrontato in maniera diversa offriamo lo sguardo dell'architetto magari inizialmente si concentra sulla forma però grazie anche a iniziative come il progetto SIXI portato avanti da Tuglia Iori e Sergio Porretti cerchiamo anche di metterci dalla parte dell'ingegnere quindi raccontare come gli ingegneri attraverso delle innovazioni tecnologiche tecniche l'utilizzo anche di materiali innovativi hanno contribuito a un'evoluzione del linguaggio e hanno fornito appunto uno strumento importante agli architetti sicuramente il dialogo e la collaborazione così come nel passato sono alla base del successo di tante basta pensare adesso vedevo il Kimbell Museum dove Luis Kahn lavora con un comandante un bravissimo ingegnere e si intendono bene fin dai primi progetti dei laboratori Richards a Filadelfia ed è ecco un esempio di un dialogo fecondo tra un ingegnere e un architetto che ha portato a un edificio dove la struttura struttura la scelta della struttura implica una scelta di spazio implica una scelta di luce e implica poi anche una scelta di forma quindi tutti i temi che sono stati affrontati delle parole chiave che credo tutti coloro che hanno parlato prima di me hanno citato secondo me in alcuni di questi esempi si ritrovano si ritrovano tutti sono questi esempi che noi poi vorremmo offrire agli studenti affinché appunto ragionino sempre in termini di spazio forma struttura e aggiungerei anche luce perché guardando fan adesso viene in mente oppure can prima un altro tema tema importante anche dove questo tema soprattutto se pensiamo anche a can è importantissimo dove questo equilibrio poi si riesce già la forma strutturale riesce poi a diffondere tutto questo e avete mai pensato poi magari di proprio istituire anche un corso di storia dell'ingegneria che sia poi anche ma è così solo per capire forse non va la pena di fare delle separazioni così rette in realtà non lo so da parte mia parlo di Eiffel la lezione perché secondo me è un capitolo importante per capire la storia dell'arbiatura diciamo la storia delle costruzioni in Francia tra 800 e 900 ma non so anche Oguis Perret era forse nasce come ingegnere del cemento armato poi insomma sono quelle figure che ibride per cui secondo me non si può separare la storia dell'architettura dalla storia dell'ingegneria poi affrontiamo sì soprattutto Fabio nelle sulle azioni che sono dedicate al contesto italiano affronta i progetti dei grandi ingegneri italiani quelli che poi contribuiscono alla formazione della scuola svizzera di ingegneria come ci ha ricordato Tulli Agliori nel corso del suo intervento riformulo la domanda allora diciamo che storia dell'architettura le due storie sì e forse sarebbe opportuno che facessero parte anche del bagaglio culturale di chi si laurea in ingegneria civile quello che volevo un po' stimolare un po' questo tipo di questo tipo di approccio no? nel senso che ecco forse nel percorso dell'ingegneria civile manca un po' l'attenzione per la storia dell'architettura ecco sì ecco grazie e Fabio Campolongo anche lui non solo insegna storia dell'architettura ma insomma è grandissimo appassionato di 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 architettura di struttura di tutto quello che riguarda riguarda il mondo dello spazio dello spazio dello spazio fruito però anche è dipendente della sovrintendenza e dunque anche colui il quale deve spesso e volentieri decidere se delle degli edifici è giusto mantenerli come mantenerli e che tipo di come tramandiamo come tramandiamo le opere come tramandiamo i saperi allora quello che mi piacerebbe chiederti Fabio è proprio questo il tema del come del cosa del perché alcune cose è bene magari poterle anche tramandare noi vediamo adesso e soprattutto siamo in un periodo dove anche vogliamo per il super bonus questa opportunità economica che purtroppo lo Stato ci ha concesso succede che non dico altro succede che però un certo tipo di architetture che facevano sicuramente della materia dell'uso dei materiali sapienti della tecnica della tecnologia il suo valore principale perché comunque erano inseriti in un contesto dove il progresso doveva essere anche l'attualità di quel momento lì doveva essere centrale oggi tentiamo di cioè non sono a rischio sono praticamente ne stiamo perdendo ogni giorno qualcuno di significativo e allora questo tema del tramandare del saper come del come conservare del come restaurare un certo tipo di opere che hanno alla base questi rapporti chiari che sono tra la forma e l'architettura che però si rispecchiano magari in edifici importanti in una visita che abbiamo fatto recentemente in un corso Fabio con te per dire al Duomo è stato anche lì abbastanza il Duomo di Trento è stato abbastanza illuminante dove anche la tecnologia anche lì micro la microtecnologia in realtà riesce a mettere in evidenza quella che era rivivere delle spazialità comunque straordinarie grazie molte domande di assieme devo fare come con Michelle dammene una alla volta allora le risposte possono articolarsi rispetto proprio alle diverse competenze che mi sono chieste quelle di funzionario della sovrintendenza che ha uno strumento che è fondamentalmente il codice dei beni culturali o la legge sul diritto d'autore quindi una norma che ci chiede di porre l'attenzione sull'oggetto è una norma che ci chiede di porre l'attenzione sull'autore gli altri gli altri ambiti che possono suggerirmi delle risposte sono quelli proprio del corso di laurea qua a ingegneria o quelli del corso di laurea a lettere e beni culturali dove la questione riguarda proprio una questione da un lato culturale da un lato proprio torna ad essere una questione di carattere legislativo però alla fine alla fine tutti i ragionamenti anche seppur tendenzialmente analitici si riducono a quella risposta che in qualche modo Ponti cerca disperatamente quando cerca un criterio di giudizio di valore dell'architettura contemporanea lo dico sempre lo riporto sempre perché lui alla fine arriva a una risposta che è la risposta che ogni tanto mi do mi emoziona non mi emoziona mi incanta non mi incanta riporta l'architettura in quella sua dimensione artistica che è una dimensione comunicativa di emozione che giunge a un risultato efficiente efficace onesto mai banale portando in qualche modo tutto a un'unità però forse non è solo questo forse non è solo questo allora quali sono gli strumenti che ci possono aiutare ad attribuire un giudizio di valore chi si occupa di restauro trova nei testi di Cesare Brandi un ancora allora Cesare Brandi è il fondatore di fatto di quello che noi conosciamo come ministero della cultura è il fondatore dell'istituto centrale del restauro è il fondatore di tutta una serie di attività che ruotano attorno alla conservazione e lui pone la questione del riconoscimento dell'interesse il codice dei beni culturali usa proprio questo termine qua riconoscimento dell'interesse culturale non parla di trovate non parla solo di strutture parla di un interesse culturale che a questo punto va ad abbracciare un po' tutte le questioni comprese quelle della tecnica quelle del contesto quelle della storia quelle artistiche e Cesare Brandi a un certo punto dice che a un certo punto per una determinata ragione uno si accorge che quella cosa là ha un interesse è un interesse che sta dentro nell'opera e che solo una volta riconosciuto dall'occhio esperto e comunicato agli altri viene condiviso e riconosciuto in maniera ufficiale attraverso un atto amministrativo o attraverso un riconoscimento popolare una condivisione di apprezzamenti potremmo dire questo è in qualche modo il fondamento sul quale si sviluppa tutta la disciplina dell'attività vincolistica che facciamo in sovrintendenza che di fatto è fortemente limitata dal codice dei beni culturali che consente di limitare di riconoscere le opere d'arte se ha compiuto più di 70 anni quindi è sopravvissuta la prova dell'acqua e del tempo e del gusto se l'autore è morto allora l'altro giorno non convene al Marte Ugo Carugui diceva no a noi serve riconoscere l'interesse alle opere con gli autori in vita cioè non può essere una condizione che l'autore sia morto per riconoscere la qualità di un'opera e per porla sotto tutela allora iniziamo a capire che la questione è molto complessa e di fatto si divide fondamentalmente nel riconoscimento dell'interesse sull'opera sulla costruzione o sull'autore secondo due filoni la legge peraltro sul diritto d'autore tutela gli interessi dell'autore che è un po' anche la ragione del breve testo che ho scritto cioè uno lavora come un dannato fino alle 4 di notte come molti di voi non arriva neanche all'inaugurazione che gli hanno già fatto cinque varianti e l'opera non è neanche più sua è di una collettività ecco plurilingua allora c'è un diritto che l'autore se viene riconosciuta una qualità artistica qui potremmo aprire un ampio dibattito se gli viene riconosciuta una qualità artistica dal ministero della cultura a questo punto l'autore è un artista e può ad esempio chiedere che sia attribuita a lui direttamente l'incarico per la modifica della sua opera con evidentemente una questione di carattere economico molto complessa che va in totale contrasto con tutte le norme sui lavori pubblici questo è un po' anche per inquadrare la grande complessità della vicenda c'è però un altro strumento che noi possiamo utilizzare per attribuire un giudizio di valore all'opera è quello di lavorare sui fondi sui fondi archivistici c'è qua a collegare Roberto Arcaini abbiamo fondi di architetti abbiamo fondi di strutturisti ingegneri abbiamo fondi di imprese di costruzione riusciamo a in qualche modo a ricostruire dei contesti riusciamo attraverso questi materiali a vedere delle opere che abbiamo sott'occhio attraverso la foto dell'inaugurazione a riconoscere quella qualità che il tempo in qualche modo ci ha impedito di vedere l'altro giorno raccontavamo che chi frequenta gli archivi vede il futuro degli edifici conoscendo nel passato e quindi ne riconosce le qualità e ne riconosce le potenzialità e sono delle lenti che hanno solo coloro che hanno la vista deformata dalla bellezza vista negli archivi allora iniziamo a capire che ad esempio la fortuna critica che è il criterio che chiede il ministero per il riconoscimento del diritto del diritto d'autore si fonda proprio sulla sulla ricerca d'archivio ma non è solo quello non è ancora solo quello allora volevo tornare al ragionamento che faceva Michel Carlana quando diceva quando è uscita quella pubblicazione il mondo dell'architettura aveva dimenticato alcune parole ma il mondo del restauro non li aveva dimenticate per nulla cioè quel mondo del restauro all'interno del quale operano quelle persone che in qualche modo sono chiamate anche a partecipare al lavoro di censimento inventariazione di catalogazione su cui si fonda il censimento nazionale dell'architettura contemporanea il censimento provinciale il censimento comunale ecco noi vorremmo scendere ancora più di scala ecco è una realtà che alla fine ruota attorno alle persone che si occupano di restauro beh insomma le parole chiave del restauro sono quelle che ha citato lui l'ascolto la struttura la materia i pesi e i contrapesi quindi il tema dell'equilibrio e poi le trasformazioni le continue trasformazioni e le continue innovazioni che in alcuni casi vorremmo conservare chi si occupa di restauro a questo punto si interroga in continuazione sulla questione dell'autore visto che l'opera che ci giunge è un'opera fatta a più mani pensate a più mani trasformata da infinite mani e attraversata e calpestata da infiniti piedi allora la questione dell'autore è la questione forse più interessante sulla quale provare a ragionare potremmo dire che la questione dell'autore può essere la fortuna dell'opera o la condanna dell'opera per alcuni aspetti vi porto un esempio molto pratico rispetto alla cosa che tu hai citato la visita fatta in Duomo alla fine dell'ottocento scoperchiano il Duomo stabiliscono una quota nuova zero che è poco sopra le reni delle volte tagliano con un bisturi enorme la cattedrale un taglio perfetto scoperchiano le navate centrali la navata centrale conservano perché servono da un punto di vista strutturale le volte cinquecentesche la prima è l'ultima perché non si apre la scatola e sostituiscono le volte con delle volte con prestazioni ancora più elevate strutture sottili e torniamo agli ingegneri italiani ma parliamo di nordio parliamo di un architetto che si forma in un ambito miteleuropeo che ha degli obiettivi molto pratici la deve far star su è tutta sconquassata si apre è disarticolata sostituisce le volte con strutture leggere sostituisce gli archi con quegli archi di cui abbiamo parlato che sono molto simili agli archi che utilizza Renzo Piano in Puglia cioè antiché lavorare con tanti conci che costituiscono una sezione a T si fa dei blocchi a T monolitici se li porta su li lega e noi li abbiamo ulteriormente legati trasformandoli in archi leggermente armati dico che la questione dell'autore può essere fortuna e condanna perché gli interventi di Nordio erano sempre considerati come interventi Nordio era quasi un aggettivo di disprezzo è del Nordio cioè non è cinquecentesca è ottocentesca è il Nordio è quello con le stelline caspita è il Nordio adesso diciamo è il Nordio è quello che si fa una sezione piena monolitica si fabbrica i blocchi a terra e li porta lassù è il Nordio è il Nordio che fa il progetto meno fantasioso rispetto a quello dell'Essan vai o è il Nordio che di fatto è imposto a un progetto che poi viene portato avanti dal Tomasi che viene sviluppato attraverso la costituzione di una scuola di scalpellini a Trento e che quindi è un'opera alla fine eseguita da un'idea del Nordio ecco che questa questione dell'autore dell'autore che ne costituisce la fortuna e la condanna è una questione fondamentale sotto il profilo legislativo forse a questo punto assolutamente relativa perché la cosa che ci interessa è la sostanza è la costruzione allora rispetto al giudizio di valore chi si occupa di restauro si scontra con la realtà delle cose con le verità uso il plurale ecco a me pare che in pochi si occupino della realtà delle cose nella loro complessità anche da un punto di vista proprio strutturale ecco uno degli obiettivi di questo corso di laurea è proprio quello di occuparsi dei pesi occuparsi della complessità anche della complessità di gestione di una costruzione e forse di fatto la questione ormai dell'autorialità visto che l'autore quasi spesso è una società ecco io incontro adesso gli ingegneri delle banche incontro i finanziatori ecco la questione dell'autore mi pare essere sempre di minore importanza grazie Fabio come sempre riesci a collegare mondi a creare legami veramente appassionarci tutti nuovamente sempre di più le nostre passioni ecco se posso un'ultima cosa rispetto al quesito posto sul possibile corso di storia dell'ingegneria ecco noi ci occupiamo di fatto della storia dell'ingegneria italiana all'interno dei corsi di storia Andrea Leonardi ha pubblicato finalmente l'esito di vent'anni trent'anni di ricerche su Ligi Negrelli qui ha parlato non di una storia dell'ingegneria ma di una storia della tecnica che è un'altra questione che va assolutamente ad affiancarsi alle questioni di cui dovremmo occuparci che riguardano le forme le strutture ma le questioni dell'impianto e che riguarda questa idea della necessità della continua innovazione che forse è veramente la questione in assoluto più importante è ovvio che occupandosi di tecnica occupandosi di ingegneria andiamo a a incontrare tutti quei protagonisti anche della pubblica amministrazione trentina quindi l'ingegnere Apollonio che aveva da a che fare con l'acqua Ranzi che aveva da a che fare con gli spazi urbani Negrelli alla fine sono tutte figure che sono legate al mondo dell'ingegneria in un periodo storico dove gli ingegneri in qualche modo anche andavano ad appenerarsi nelle scuole di architettiva e a imparare la lingua latina Grazie Passerei la parola a voi al pubblico a poter interloquire con gli autori di questo bellissimo libro di questo libro che ci fa riflettere Grazie sono Vittorio Carrara e ho trovato tutti gli interventi molto stimolanti io non sono nel campo però mi vanta forse l'unica ambizione è quella di riconoscere diceva Dottor Campolongo quando parlava di di ponti diceva una cosa mi incanta ecco una cosa molto bella non so se sia questa l'arte forse l'arte c'è quando la forma segue o incontra non so la struttura però questa mi pare l'architetto Michel ci ha spiegato che è una questione di dialogo allora quando è che c'è la domanda che pongo sia agli architetti sia agli ingegneri ma quando è che c'è una defiance cioè un difetto di questo dialogo cioè ditecelo quando allora forse l'ingegnere quando è abbastanza intuitivo pensare a un ingegnere che non capisce perché pensa solo ai calcoli per esempio però forse o al fatturato però forse anche l'architetto ha dei difetti quando non so anche l'architetto deve amare la struttura se non conosce le di suoi materiali non è che può limitarsi a fare uno schizzo va bene la butto lì ecco posso dare una prima risposta molto terra a terra guardiamo la realtà quasi sempre vengono affidati in carichi vengono affidati in carichi attraverso lo spettatino quello che fa i render al quale arriva la parcella più importante poi c'è anche l'architetto poi c'è l'impiantista poi c'è lo strutturista ecco non sempre la committenza ha cura del progetto cioè di un processo che porta a soddisfare il bisogno e il bisogno è una costruzione che c'è che duri nel tempo che ci serva coerente con lo è la questione di cui ampiamente si dibatte sulla necessità dei concorsi ma non è solo la necessità di affidare l'incarico attraverso un concorso è la volontà di costruire un concorso ma soprattutto un'amministrazione che ha un progetto che vuole una cosa e che la vuole di qualità e che non è disposta a scendere a compromessi rispetto a questa qualità e quindi deve anche darsi una struttura uno strumento un processo per ottenere quella qualità che le norme in teoria ci imporrebbero di ottenere allora se già partiamo da una pubblica amministrazione che ritiene che l'esito finale sia l'assommatorio di prestazioni comprendiamo che non ci sarà mai possibilità di arrivare a una coincidenza di forma struttura a meno che lo strutturista o l'architetto non prevalga su tutti e non disponga la struttura più banale per assecondare una sua idea di forma o la struttura più economica o la forma più sgangherata alla quale lo strutturista poi con affanno tenterà di dare una risposta questa è forse la prima grande questione che è la questione della qualità della committenza adesso siamo arrivati al punto in cui la committenza subappalta il ruolo della committenza e parlo della pubblica amministrazione progetti dati in delega o persone che hanno edifici o aree talmente eroniose che cercano l'ente che magari hai fondi a disposizione per fare lì un altro un progetto di qualsiasi tipo quindi anche un distacco tra una comunità e ciò che in quel luogo arriverà questo penso che sia la questione in assoluto più più delicata proprio perché la figura che alla fine manca è diciamo dire quella del progettista o quella dell'architetto per dare acqua al mio mulino ecco che è la persona che coordina tutti i saperi ormai l'architetto più che un inventore di forma è veramente un coordinatore di competenze a partire da quelle normative fino a quelle veramente impiantistiche e mi agaccio anche io facendo però un salto un altro gradino nella un po' in questa diagramma ad albero definiamolo così nel senso che c'è un piccolo problema che è un totale scollamento tra quello che noi pensiamo sia l'architettura in ingegneria o quello di cui stiamo parlando adesso e quello che accade nel mondo vero e cioè che la gente non sa minimamente cosa sia questa professione ero a fare un convegno due tre mesi fa mi avevano invitato per spiegare come va strutturato un concorso altro e il mio esordio nella conferenza è stato quello di dire ma guardate che la signora Pina non sa che cosa fa l'architetto e ci sono tante signore Pina che messe insieme fanno sì che non ci sia un obiettivo della società secondo me questo è il primo tema cioè è impossibile avere una committenza di qualità se uno la società non sa che cosa sia questo nostro mestiere cosa che invece non so ho avuto la fortuna di lavorare in Svizzera per gli svizzeri siamo dei medici e allora automaticamente hai il tuo ruolo nel mio caso un architetto è chiaro ed è riconosciuto quello dell'ingegnere è chiaro ed è riconosciuto quello del geometra è chiaro il geometra fa i rilievi e ti fa le stime l'ingegnere ha il suo ruolo e queste persone che hanno delle chiare figure possono dialogare in modo semplice quindi il primo tema è secondo me che bisognerebbe riconnettere i nostri saperi o le nostre competenze professionalità chiamatele come volete con il mondo vero perché quel mondo lì è il committente e quindi il committente non sa che cos'è la qualità molto banalmente al di là dei concorsi pubblici se da noi arriva un committente quello che racconto sempre è che c'è un mese di rieducazione cioè tu sei quello che costa troppo fa le cose strane ti fa perdere tempo e quant'altro e purtroppo ha ragione cioè nel senso che per 30 anni in Italia parlo per il Veneto quindi non parlo della vostra ed è vero cioè per 30 anni è anche tutto questo cioè tutti facevano tutto si ragionava solo di stilemi e appunto si facevano costare il tripo le cose che potevano essere molto più di buon senso che è una parola che a Venezia nella mia scuola si usava molto poco io sono abbastanza cattivo con la mia scuola a cui devo moltissimo in realtà però alcune cose invece proprio non c'erano e quindi credo ci sia sono perfettamente d'accordo con Campolongo proprio su questo tema che la committenza deve avere cura l'altro tema invece che ho molto imparato appunto con queste frequentazioni per rispondere anche un po' alla domanda è anche un po' il titolo che ho dato a questa conferenza recente che ho fatto che è la generosità dell'architettura che è un tema per me molto importante ci siamo dimenticati di essere generosi ed era anche con un'intervista che ho fatto con Valentina questo aspetto qua se noi appunto provassimo a essere quando facciamo un progetto molto più generosi verso il committente verso il nostro collega ingegnere capendolo eccetera verso appunto la comunità l'architettura torna al servizio questa era una parola che continuava a dirmi Monotti che è uno dei più importanti autori dell'ingegneria contemporanea che abbiamo continuava a dirmi perché io sono al servizio io con questa comunità sono al servizio di questa comunità e significa che allora lui deve capire se lavora in Bahrain deve capire che ci sono delle persone che non sanno fare il cemento che può fare in Svizzera e perché lui è al servizio e se l'architetto anche comincia a ragionare in questo modo e tutti gli altri professionisti forse si riescono a fare un po' di più questi dialoghi secondo me quando ti dimentichi appunto di essere al servizio di qualcosa molto più grande di te del tuo collega ingegnere quant'altro fa sì che automaticamente non sei più predisposto al dialogo quindi è lì la difficoltà quando anche prima dicevo dell'aspetto anche economico e noi non troviamo ingegneri mi fa specie io appunto sono cresciuto a Padova c'è una facoltà di ingegneria anche importante è possibile che voglio dire è un calcolo anche delle probabilità ci riuscirà uno con cui possiamo aprire un ufficio dialogare io ancora non l'ho trovato devo andare in Svizzera abbiamo avuto la fortuna di lavorare con dei bravissimi ingegneri a Bressanone adesso stiamo lavorando con Cocco che è di Treviso che è un ingegnere che lavora con Tadauando tanto perché anche lì siamo fortunati però ci siamo arrivati anche a interloquire con questi autori dell'ingegneria grazie anche poi a un percorso cioè noi sicuramente ci siamo formati per parlare e ascoltare questi ingegneri quindi sicuramente c'è questo aspetto qua secondo me uno essere molto più generosi due appunto ricordarsi di essere al servizio che significa essere un pochino umili e che non significa non avere una propria identità un proprio carattere anzi proprio di ascoltare di più e sicuramente però riportare un dibattito e una presa di coscienza alla società perché davvero credo non si sappia minimamente tutto quello di cui si sta parlando qui oggi cioè siamo talmente nello specifico che il mondo fuori va a un'altra velocità sì volevo aggiungere una riflessione non è una risposta diciamo che potrebbe essere una facilitazione per non cadere nella nella separazione appunto fra le due i due aspetti che concorrono poi a un'architettura è come organizzato l'ufficio di progettazione proprio ne parlavamo oggi a pranzo che è riconoscibile l'ufficio di progettazione monopersona come eh un capo con a servizio poi eh degli addetti eh come è differente l'ufficio che è organizzato come un collettivo o degli uffici che hanno una capacità corale di progettazione questo senz'altro aiuta molto eh l'ho visto appunto con l'ufficio di Michelle Carlana che è Carlana punti maldi mezza lira eh ma non è solo non si esaurisce nelle tre figure ma appunto cerca di avere un entourage di persone fidate e che arricchiscono la loro la loro vicenda professionale o come lo è il collettivo Campo Marzio a me ha fatto specie quando facendo il libro la casa editrice diceva qua deve esserci un nome sotto il titolo all'inizio noi pensavamo Commissione Cultura poi Daniele ed Alessandro dicevano no noi siamo Campo Marzio e anche questo è un fare un passo indietro a fronte della ricchezza di un collettivo io su questo vi ammiro qui è rappresentato anche con altri concorrenti eh penso che sia un esercizio anche proprio di crescita personale non voglio togliere nulla a grandi nomi che lavorano però io penso che diciamo che sia una via che facilita un equilibrio fra ingegneria architettura e tutte le altre specificità che ora eh sono strettamente correlate proprio al nostro lavoro ecco quindi questa è un'altra forse un'altra componente che potrebbe aiutarci a capire dove c'è la la chiave sì la prima è che molte volte ho visto anch'io manca la progettazione integrata diciamo quando ero piccolo eh a un certo punto era un boccia di bottega che cercava le tre università ma intanto doveva mantenersi eh facendo conti uno studio di ingegneria però ricordo che un paio di esperienze interessanti le ho avute perché ricordo ad esempio mi essemi trovato a litigare con Aimonino io piccolo e nullo mentre insieme alla fine di un pranzo dopo una lunghissima attività di preparatoria stavamo litigando sui tovaglioli del pranzo dove mettere i cavali per far passare i canali di ventilazione eh e ricordo poi anche di essere stato sbattuto a lavorare con direzioni di lavori inglesi in cui in varie fasi della progettazione davanti alle tavole più o meno sviluppate venivano chiamati non solo gli ingegneri architetti ma anche i manutentori servizi antincendio eh cuochi eccetera eh e venivano messe in discussione i parti del progetto eh anche su aspetti estremamente pratiche questo come lo puliamo eh se qui dobbiamo smontare una macchina come facciamo questo lo diciamo nella mia modestissima esperienza l'ho trovato effettivamente molto poco nella progettazione italiana penso che qui l'architetto Campolongo abbia ragione cioè andrebbe imposta una progettazione completamente diversa dopodiché io vorrei però lanciare una provocazione di dimensioni epocali che secondo me non viene ancora chiaramente percepita e cioè la mia sensazione è che l'architettura è forse anche digerita italiana ma stia ancora guardando un po' indietro e non si accorga di quello che sta arrivando perché diciamo il problema della transizione energetica e del passaggio alle rinnovabili che assumerà delle dimensioni prorompenti non è secondo me chiaramente percepito cioè non è abbastanza chiaro che una scelta decisa per le rinnovabili porterà a un uso del territorio che oggi neanche ci sogniamo siccome le energie rinnovabili sono energie a bassissima intensità per essere captate e raccolte richiederanno trasformazioni violente del territorio l'alternativa ma non credo che verrà perseguita in Italia è quella di andare di virare nettamente sul nucleare questo permette di avere poche centrali magari un po' nascoste ma non credo che sarà questa alternativa io cerco di trasmettere questa informazione agli studenti guardate che nel futuro non potrete ignorare la presenza di pannelli fotovoltaici sui pici non potrete ignorare la presenza di fotovoltaico a terra perché se non la gestite voi vi verrà comunque imposta perché è una necessità diciamo che diventerà travolgente adesso si comincia per vedere qualche segno sento pochissime discussioni su questo aspetto da parte dell'architettura cioè come gestire questa trasformazione che arriverà se piaccia o no cosa pazzesca è che negli ultimi tre anni tutti i concorsi di architettura svizzera stanno in realtà virando tutti i progetti che vincono stanno virando proprio in quello che dice lei cioè l'architettura svizzera sta subendo una trasformazione incredibile proprio perché tutti gli edifici in facciata cioè c'è un edificio ad esempio interamente i pannelli solari completato qualche mese fa tipo a Basilea piuttosto che qualsiasi edificio rilotto vincitore di Arzo de Meron piuttosto Tristan Gant tantissimi altri nomi in realtà hanno avuto rispetto appunto a quel libro lì che avevamo fatto dieci anni fa che avevamo fatto con mezza lira una trasformazione proprio estetica totale quindi in realtà l'architettura anche a piccola scala perché i discorsi che lei sta facendo sono a molto più ampia scala ovviamente però intendo anche nel piccolo cioè il manufatto secondo me forse qui non è così ma qui siamo 40 anni indietro rispetto ad altri paesi però ci sono dei paesi quelli più avanzati soprattutto anche quelli che hanno delle università penso solo all'ETH di Zurigo che stanno investendo milioni miliardi in ricerche regati ai robot piuttosto che a tecnologie appunto sostenibili e quant'altro che sono cioè stanno esattamente facendo quello di cui lei sta parlando ah no no mi presenti infatti poi succederà un altro tema che sarà quello di cui parlava appunto Campolongo che poi questa cosa qua bisognerà comprendere in una in un territorio come quello che è quello dell'Italia che ha anche una serie anche poi di monumenti e quant'altro cioè ci sarà anche una grande contraddizione forse proprio di compresenza cioè delle cose molto tecnologiche invece delle cose incredibili e quasi arcaiche quindi quello è un altro tema e tipo la sua proposta quale sarebbe allora io sono un interartista quindi non sono in grado di intervenire su questi aspetti in prima io percepisco che questa cosa succederà ho delle idee ma ovviamente deve partire dall'università però diciamo investirà anche un aspetto profondamente culturale cioè diciamo facendo un discorso estremamente brutale come c'è stato un periodo in cui era normale che i tetti avessero le tegole rosse diventerà culturalmente inevitabile accettare che i tetti siano coperti di pannelli neri allora il problema è come gestire questa transizione come gestire la convivenza con l'esistente in maniera che questa cosa diciamo sia come lei diceva giustamente prima una cosa che viene visita con grazia nel senso che io la vedo come inevitabile non credo che si possa affermare però non vedo uno scopo anche culturale per dire come gestiamo questa roba qui io vedo l'errore che è successivo che progettualmente scusate se ho risposto io di nuovo ok poco democratico io vedo l'errore il possibile errore che si può compiere è quello di non rimettere in discussione tutto cioè il suo presupposto è corretto ma dovrebbe rimettere in discussione proprio tutti i principi quindi non è un tema secondo me che le tegole devono diventare nere è che non ci sono più le tegole cioè uno deve ragionare proprio con un'altra forma deve ragionare con degli altri proprio aspetti deve riscrivere determinate regole dell'architettura allora è corretto se invece si fa l'errore di prendere e customizzare perché ci sono dei vincoli perché ci sono delle prescrizioni perché ci sono delle limitazioni delle tutele e quant'altro e si scimmiotta l'antico con delle ipertecnologie meglio non averle cioè questo è il tema sì due aspetti il primo riguarda la consapevolezza del problema e la volontà di affrontarlo la pubblica amministrazione in questo momento a meno che lei non abbia informazioni più aggiornate delle mie è che il problema non viene non c'è neanche sul tavolo allora per quanto riguarda il contesto trentino nel centro storico di trento i pannelli solari erano vietati da servizio urbanistica la competenza è passata all'amministrazione comunale ovvero alle amministrazioni comunali le quali possono disciplinare in materia ma non avendo disciplinato si può fare quello che si vuole e quindi l'obiettivo è garantire ad ognuno la possibilità di accendere attraverso l'interruttore la luce autoprodotta sul proprio tetto vuol dire non avere neanche la volontà di affrontare la questione in alto adisi l'hanno affrontato in maniera molto semplice e chiara centro storico di vieto assoluto noi attribuiamo a quelle poche coperture dei centri storici un valore anche paesaggistico che poi ha una restituzione anche economica nella vendita dell'immagine sapendo che il centro storico di Bolzano alla fine è 5% di Bolzano allora si tratta di una volontà di gestire la questione gestire il problema riporto la questione sul quesito che poi è al centro anche di questo ragionamento quali sono i parametri di valutazione di una costruzione Ponte dice mi incanta io ho detto no la cosa è molto più complessa è la coerenza strutturale è la sensatezza è l'efficienza è l'efficacia è questa questione degli impianti è la questione di un edificio autosufficiente alla fine se il progetto ha coordinato ha tenuto assieme tutte queste questioni ha risolto il problema e magari l'ha risolto con eleganza o con garbo se quella era la sensibilità dell'architetto abbiamo visto alcuni progetti che invece si ponevano neanche il problema della grazia e del garbo però è anche una questione di poetica porto un caso ma molto banale scendendo da questa strada poi si arriva su Piazza Venezia a Piazza Venezia noi al centro sportivo di Piazza Venezia noi sovrintendenza abbiamo chiesto ma perché non fate un tetto fotovoltaico tutta la copertura omogenea assolutamente no poi sono arrivati in maniera ecco i pannelli solari messi dall'idraulico segnalazione abuse eccetera eccetera è una questione che non non apparteneva al progetto gran parte delle questioni possono essere risolte proprio all'interno del progetto un progetto che è alla scala dell'edificio o che è alla scala del territorio è la grande sfida è la grande sfida anche perché ci viene chiesto nel giro di pochissimo tempo di triplicare mi pare la produzione di queste fonti rinnovabili che sono esclusivamente a pannelli solari è la grande questione infrastrutturiamo dei parchi per la produzione adesso andiamo un po' lontano però alla fine parliamo sempre dell'epopee dell'ingegneria allora come abbiamo costruito le grandi centrali idroelettriche e noi attingiamo a quelle sorgenti pubbliche la nostra energia possiamo anche pensare a dei grandi parchi eolici anziché riempire tutti gli orti di tutte le case è un problema di progetto è un progetto che si fonda spesso su questioni che sono questioni tecniche gestite dal politico ma prevalentemente tecniche ma al momento l'idea è quella di non gestire ognuno si arrangi se può arraffare il 110% come può e dove vuole se posso dire c'è proprio questo tema che avete sia il dialogo che ci dovrebbe essere perché se noi se per noi la quinta facciata come lo è a Bolzano noi abbiamo un territorio che non è piano noi abbiamo un territorio soprattutto di valli e di montagne e dunque da lì noi vediamo questi vediamo le coperture dei nostri edifici oggi evidentemente nei centri storici qualcosa non ha funzionato no? lì ci voleva forse degli atteggiamenti un po' più di governance territoriale io mi metto in mente Rovereto Rovereto ha la stessa superficie della città e della zona industriale ma abbiamo la municipalizzata che fa l'energia per tutti ma non ci poteva essere un progetto di pensiero dove la municipalizzata affitta i tetti delle di tutta la zona industriale e crea un qualcosa dunque bisogna inventarsi delle medicine nuove non possiamo lavorare con le medicine vecchie e poi lavorare lasciando magari io mi metto in mente tutti questi edifici del moderno questi edifici anni cinquanta sessanta arriviamo anche fino in settanta che sono veramente interessanti oggi li cancelleremo ma perché non facciamo come non per citare la solita svizzera il tema di se questi qua rappresentano un insieme un insieme è caratteristico è un quel qualcosa che mi fa passare quei dieci minuti in quella via piuttosto che una via se quella via lì me la trovo domani tutta capotata che sensazioni avrò io in quella via lì non avrò più quella magia in quella cosa là dunque ci vorrebbe dal punto di vista degli impiantisti gli impiantisti oggi sono la peggior specie posso dirlo non si offende vero esistente no perché allora intanto sembra che siano loro che ti regalano i soldi no perché loro sono i deus ex machina di tutta questa cosa ma io spero come dicevo prima che finisse stanotte insomma o finisse ieri sera sono gli unici che si sono arricchiti e parliamo di generosità io concordo con Michel Carlano nel parlare di generosità ma la generosità solamente gli architetti appassionati la danno gli impiantisti la generosità non sanno neanche cos'è e in questo ambito qua ci vorrebbe proprio un salto di qualità su questa cosa di riuscire a vedere cosa ci è effettivamente necessario ok e fare anche una cernita perché forse lei mi insegnerà l'energia quella l'energia più rinnovabile possibile e quella non spesa ora mi dirà ok lavoriamo sull'involucro invece che sulle macchine insomma tutti questi temi che sottendono le scelte ma io dico se noi potessimo lavorare mantenendo dei parchi urbani interessanti gli insiemi gli insiemi paesaggistici Merano ha fatto un piano che lavora solo sugli insiemi allora dico in questa zona qua che vale il verde pubblico tu vuoi fare un edificio il verde deve essere la caratteristica questa zona qua le ha le loggie i pieni vuoti tu vuoi fare un edificio nuovo qua lo fai con i pieni vuoti perché perché creano un grande showroom chiamiamolo un grande garden dove uno va dentro e dice ma guarda questa città cioè tutta molto particolare speciale ecco che dunque se noi riuscissimo a dire degli edifici li mantengo però poi faccio degli innesti assolutamente energeticamente che sono il massimo superiamo l'enzeb immaginiamoci l'activo facciamo tutto quello che possiamo pensare in Svizzera lo chiamano il bagaglio lo zaino energetico loro dicono questo qua lo devo tenere così li faccio lì vicino un corpo nuovo che invece nella media io rientro sempre in quello che la legge mi farebbe fare queste cose qua credo che le fantasie e le soluzioni potrebbero essere trovate le strade le intuizioni attraverso un dialogo credo però effettivamente che gli impiantisti oggi adesso dico nella media evidentemente non sono loro pronti a poter sacrificare parte della loro torta che con il 110 è stata proprio decuplicata perché ma io ho visto caldaie nuove da buttare via io ho il mio cliente e dico ma tu hai la caldaia che vuoi farsi una caldaia hai la caldaia nella casa vecchia la portiamo nella casa nuova attacchiamo lì ti fa andare tre volte in metri quadri di quelli che avevo prima c'è un atteggiamento veramente di non poter utilizzare in maniera corretta le risorse io questo devo dirlo e probabilmente anche voi dovreste far capire a queste persone che il tema non è volere adesso perché qualcuno si è inventato un algoritmo un algoritmo perché adesso se uno ha una pompa di calore una casa diventa una più se ha una pompa di calore per me l'inabominio anche questo ci hanno insegnato che probabilmente l'involucro la base l'è il pensiero di una casa tutto il mondo delle case passive e quant'altro capire che l'architettura l'energia e quant'altro ti riesce a riscaldare in un modo piuttosto quanto deve essere un bagaglio nostro è stato citato prima forse dobbiamo leggere veramente i libri ma molto antichi ma purtroppo ci sono dei nicoli poi scusate mi sono un po' troppo scaldato su questo tema ma è un tema che non riesco questo se dobbiamo risolvere ma neanche dobbiamo ridurre il mio peggio angurio e il peggio che è peggio del caldaie no no la funzione della diversità di come fa arrivato e qui diciamo e qui diciamo e Grazie. 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 E' proprio questo, no? Tra le tante concezioni diffuse e stereotipate viene una che riguarda la tecnologia e l'ingegneria. E' quell'opinione secondo la quale il necessario approccio scientifico e utilitaristico tipico di questi ambiti rischierebbe di allontanarci dal senso profondo delle cose e dagli aspetti maggiormente legati alla qualità, come la bellezza, la forma e l'estetica. Perciò, insomma, devo dire che proprio il tema dell'incontro di oggi era proprio per mettere al centro di nuovo queste grandi categorie, insomma, che per noi sono sempre... Noi siamo sempre, credo, la ricerca di queste cose. Beh, ma Carlano ha parlato di estetica. Ha parlato della grazia. Io porto sempre questo esempio. Io mi sono occupato di arrieture, di storie dell'arrietura, insomma, per una vita. Ma c'è stato un momento in cui ho compreso la questione dello stile. E stile è il titolo di un'infinità di saggi scritti da architetti italiani. Lo stile di Ponti, lo stile di Libera. L'ho compreso in una palestra perché un ragazzino che conoscevo, figlio di un architetto, ha fatto un esercizio talmente perfetto di ginnastica che ho compreso la questione dello stile. Lui è riuscito a fare una cosa complicatissima, non mostrando nessuno sforzo, con una naturalità disarmante, con una semplicità e con un'eleganza. Ma quell'esercizio lì era un esercizio nei canoni dell'esercizio. Cioè, aveva un compito da svolgere, lo ha svolto, era dentro nei canoni, nei canoni dello stile. C'è uno stile libero, c'è uno stile che deve rispecchiare delle regole e lui ha rispettato queste regole. E grazie a quelle regole è riuscito a non mostrare la fatica e lo sforzo. Questa è una delle forme, forse la più astrata, la più elevata, quella che piace di più ad alcuni, ecco. Altri invece guardano magari un aspetto forse più rude, più arcaico. Però questa questione dello stile è la questione della quale ha parlato. Che è una questione anche di ovvietà, di semplicità, di riuscire a risolvere una questione nella maniera più ragionevole. Ecco, per non usare il termine razionale che ormai appartiene al gusto e a uno stile ormai codificato. Complimenti a tutti, grazie. Grazie a chi organizzò quelle meravigliose serate. Io posso fare brevissimamente un ringraziamento a tutti i presenti perché appunto dietro il libro in realtà c'è un mondo. Ma anche a chi non è qui, Giulia Boller che ha partecipato, Cristiana Chiorino, la fondazione Nervi, Tuglia Iori, lo studio Pedrazzini, poi c'è ancora Alessandro Bosana che sta lavorando, il professor Piazza che è stato con noi, ha dato un contributo estremamente interessante al dibattito e all'Ordine degli Ingegneri che comunque ha permesso lo svolgersi di questi incontri. Grazie a Emiliano che ha... Grazie a voi. Cercato, grazie.